Ha ucciso la moglie con un mix di farmaci e poi ha cercato di suicidarsi. Una tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 9.30 in un appartamento in via Coletti a Rimini dove viveva l'anziana coppia. A quell'ora è entrata la badante e li ha trovati entrambi privi di sensi nella camera da letto. La donna, una 77enne, si trovava sul letto mentre il marito, di 75 anni, era a terra. La badante ha chiamato subito i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e i carabinieri. I sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso della 77enne mentre l'uomo era in gravi condizioni ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Nelle prime indangi dei carabinieri sembra che il 75enne abbia ucciso. La moglie malata ha lasciato un biglietto nel quale spiegava l'inmotivazione del gesto. Sarebbe stata infatti la donna, affetta da Alzheimer, a chiedere al marito di volerla fare finita. Nell'ultimo messaggio l'uomo ha scritto di averla contentata preparando un mix di farmaci, facendo il vero bere e poi assumendo lui stesso il mix mortale. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno. Luca Bertuzzi che ha disposto l'autopsia sul cadavere della 77enne mentre il marito si trova piantonato all'ospedale di Rimini. L'uomo era un ex infermiere. La vittima gestiva una pensione a Viserba. I vicini li hanno descritti come una coppia molto affiatata, anche i familiari, spiegando che ultimamente il 75enne era molto prostrato a causa della...